E ci siamo! Ciao, buongiorno a tutti, buon venerdì, ben trovati su Clubhouse, in questa room be safe. Oggi è Quando puoi o Quando devi. Era il titolo un po' provocatorio che io e Francesco ieri sera abbiamo messo insieme perché volevamo parlare, volevamo finire o continuare sul filone del tema del benessere lavorativo, organizzativo ed era stuzzicante anche su alcuni aspetti che Antonella ieri ci ha proposto di raccontare di esperienze legate al Covid ma legate proprio a come le persone hanno vissuto e continuano a vivere questo binomio di essere a casa, essere in ufficio. Andrea oggi ci ha dato un assist grandissimo, Antonella, non credi? Lui è in ufficio, contentissimo di essere in ufficio. Eleonora, l'hai sentita l'energia? L'ho sentita, l'ho sentita, ha detto dopo anni. Eh? Dopo anni, ha detto. Sembra fatta apposta quella. E quindi, insomma, ci siamo un po' interrogati, stiamo andando, oltretutto, vi ricordo come al solito, noi siamo qui tutti i venerdì mattina alle otto e mezza, ma noi seguiamo un calendario, come dire, scolastico. Quindi, giugno sarà l'ultimo mese dei nostri incontri, si chiuderà la stagione 2 di Be Safe per poi a settembre. Giusto, Francesco? Giusto, però abbiamo detto anche che cercheremo di fare una puntata col botto, la chiesola col botto. Poi anche Sara l'altra volta chiedeva se si poteva fare una puntatona serale che magari, boh, che ne so, magari scopriamo di essere un po' più liberi, un po' più presenti. Chi lo sa, valutiamolo. Sara, ovviamente, Chiara, Totò, se volete io vi invito anche a partecipare, quindi la room è aperta a tutti, è aperta, chiacchieriamo insieme, insomma, un po' cerchiamo di condividere idee, di fare discussione, creiamo un po' di cultura tutti quanti insieme. Quindi quando volete alzate la mano oppure in chat ditemi o scrivete direttamente lì, se non potete parlare. In qualche modo io leggo, io e Leonora leggiamo la chat e va bene uguale. Cosa ne dite? Quando puoi e quanto devi. Qual è la condizione migliore? Io un po' ne parlo ai corsi sui feedback. Spesso e volentieri, non so, voi, nella mia esperienza, le persone fanno le cose perché devono. E quindi quando fanno le cose perché devono, le fanno un po' di malavoglia, no? Come dico sempre, quando devi pulire perché sennò becchino punizione, magari lo fai di malavoglia perché hai altre cose da fare a casa e comunque lo fai un po' dove passa il prete. È lo strumento più usato, no? Fai questa cosa se no e se no di solito si ottende a delle conseguenze non piacevoli. Invece noi vorremmo tutti, no? Che il nostro capo ci valorizzasse quello che facciamo e quindi riconoscesse anche quando non si vede i risultati del nostro lavoro, no? Questo ci motiva un po' di più. Quindi lavorare sotto un rinforzo positivo, quindi del voglio fare le cose bene, non devo fare le cose bene, è un po' il mondo che normalmente incontriamo al lavoro. Com'è la vostra esperienza su questa cosa qui? Buongiorno ragazzi, spero mi sentiate perché sono sui mezzi, quindi non posso... Benissimo, ti sentiamo bene Antonella. Io volevo appunto raccontarvi quello che condividevo con Francesco, Stefano, Veronica e Marco ieri. Volevo raccontarvi questo aneddoto di un amico che è un grafico e lui sostanzialmente mi raccontava come abbia sofferto nel periodo Covid del fatto appunto di dover lavorare in solitudine e dover lavorare da casa. Estando sempre a casa mi ha sofferto non solo la sua salute mentale ma proprio anche la sua produttività, la sua creatività. Perché ovviamente stando in casa, non potendo più frequentare gli uffici, si sentiva sempre meno creativo. E questo è un primo punto su cui riflettevo ieri. E il secondo punto è il fatto che adesso lui è un freelancer, quindi in realtà lui andava presso i suoi proditori ma poteva stare in ufficio con i suoi ucchi e di tre regolette. Adesso, visto che sono spesso presenti ancora queste regole di Covid che vietano l'ingresso per gli esterni, adesso lui, stanco di dover rimanere a casa, si fa tutti i giorni, 30 km, non tutti i giorni, si fa spesso 30 km per andare in un ufficio e stare con altri freelancer. Quindi lui vuole andare in ufficio. E da una parte questo mi faceva riflettere, se il fatto dicevo che capita, lui il freelancer potrebbe lavorare benissimo da casa e invece no, sceglie di prendere la macchina, andare, magari perdere tempo nel traffico, un po' come tutti, per stare però in compagnia di altre persone, per recuperare quella socialità che va persa, quella produttività, creatività. E questo mi ha fatto pensare molto, no? Mi chiedevo, se allora non gli conviene farsi assumerlo da un'azienda? E poi ho pensato, no, no perché altrimenti non avrebbe la stessa flessibilità, la stessa capacità di autodeterminarsi nei tempi, nelle modalità di questo lavoro veramente smart, che sia un po' autorganizzato. Abbiamo perso l'Antonella? Eh, probabilmente sì. Ma sì, diciamo che il punto di vista di Antonella è un po' anche quello che raccontava Giada la settimana scorsa. Alle volte l'eccesso da una parte o dall'altra non va bene, no? La settimana scorsa Giada raccontava la sua esperienza di full remote e quindi diciamo uno sogna un po' il fatto di dire magari, sai, lavorare vicino al mare, lavorare vicino alla montagna, ho più tempo libero per me, ma quella di fondo è lo svantaggio. Il fatto che non hai relazioni con i colleghi, il fatto che magari hanno una relazione piuttosto opportunistica con il tuo lavoro, no? Quindi se qualcuno ti offre di più, cambi. Il fatto che magari se sei giovane hai bisogno di un mentore, e il mentore come fa a vederti se tu sei sempre a casa e in azienda non ci vai. Quindi un po' il full remote, che per alcuni potenzialmente è l'ideale equilibrio a casa lavoro, in realtà si manifesta come un estremo, l'estremo opposto di stare a lavoro tutti i giorni, no? E quindi ci sta il tema della creatività, il tema del cercare di essere presente in ufficio, il fatto di trovare, secondo me, se l'ambiente, come diceva anche un po' Andrea, se l'ambiente è un ambiente di benessere, di persone positive, di stimoli, beh, insomma, è anche bello stare insieme in ufficio con i colleghi, no? Dai Andrea, sei curioso di sentire quell'energia, perché dici, finalmente in ufficio? Cioè, ce l'hai aperta tu praticamente la ruba? Io ho fatto due anni a casa, praticamente, perché nella precedente vita lavorativa, il covid l'ho fatto in 100% smart working, e ovviamente ci sono i pro e ci sono i contro, dal punto di vista familiare, mi sono goduto mio figlio, ho fatto cose che mai avrei immaginato, perché la quantità di tempo che potevo dedicargli era tantissima, però dal punto di vista sociale e delle relazioni è stato decisamente pesante, diverso, non poter mai incontrare fisicamente le persone. adesso qui è tutto diverso, nel senso che sono obbligato a incontrare persone, perché ho appena cambiato, e quindi comunque devo stabilire nuove relazioni. tra l'altro ieri sera dicevo a mia mamma, che ha 75 anni, non riesco a immaginarmi, da una parte, i prossimi 20 anni, che possono essere, o comunque andare in ufficio, e fare una serie interminabile di video call, e rendersi conto di essere andati in ufficio, non incontrando comunque nessuno, oppure, ed è la cosa che mi auguro, il grande rinnovamento del desk sharing, cioè non hai più il tuo ufficio, quindi prenoti la tua scrivania, e non sai quel giorno lì chi incontrerai, cioè sicuramente saranno colleghi, o almeno nel nostro caso, perché è un desk sharing aziendale, però vai in ufficio, e intorno a te ci sarà qualcuno, non sai chi, però si possono generare nuove connessioni, e questa diciamo è l'altra faccia della medaglia, quindi è una medaglia che ha due facce, la prima un po' triste e chiusa, la seconda invece decisamente più affascinante, poi può capitare anche di prenotare un desk sharing, e trovarsi di fronte Paolo, però quelli sono i rischi del... Fa parte di accettare il rischio, che dici? Stavo pensando anche all'energia, abbiamo detto che molti... Eleonora ieri ha fatto un post, un piccolo post su LinkedIn, molto ironico e sarcastico, di quello che ci è successo, o meglio a quello che è successo a tutta la parte, a quella popolazione lavorativa che poteva non lavorare in azienda, perché a me piace sempre non dimenticarci che noi che ci occupiamo dei lavoratori, abbiamo avuto una parte di lavoratori che non è mai, non ha mai visto nemmeno cos'è lo smart working, e non solo quelli che ovviamente magari lavorano direttamente in fabbrica, in officina, cioè nel reparto produttivo puro, ma c'è stata anche tutta una serie di lavoratori, pensate alla sanità, ai trasporti, chi porta, non solo i trasporti pubblici, ma anche tutta la parte di logistica, quindi chi ci trasportava il cibo piuttosto che i materiali, c'è stata una grande popolazione lavorativa, che è dello smart working, del cosiddetto lavoro agile, è rimasto molto lontana, e invece noi che l'abbiamo potuto vivere, in qualche maniera l'abbiamo vissuto, come dicevi tu ieri, tra la gioia iniziale, il pigiama a metà, e la folle voglia di tornare in ufficio, assolutamente, vi condividerò a breve il post che ho scritto, ho voluto per la prima volta scrivere qualcosa di diverso, e devo dire che ho un po' rivissuto quello che è stato il periodo pandemico, quindi parlavo appunto della pandemia, che inizia a colpirci, noi che ovviamente nella fase iniziale pensiamo, wow che bello, più tempo per me, pianifico, inizio a dedicarmi a quelle che sono le mie passioni, per poi arrivare a dire, ok sì va bene, ma chi ci ha mai creduto nei due cuori è una capanna, perché come tutti sanno, il troppo dopo un po' non va bene, e quindi proponevo soprattutto, in relazione a quello che è successo, rispetto a quanto ho citato poi da, no ho citato, la scelta che ha preso il non masca appunto, di far ritornare tutti i dipendenti in azienda, con modalità costante, quindi abolendo totalmente quello che è la formula ibrida, o eventuali altre forme di lavoro, e mi chiedevo in che direzione andremo nei prossimi anni, questo perché ovviamente oggi siamo abituati, da un paio d'anni, a una nuova normalità, però la domanda che mi faccio è anche, ma come facevamo prima? Cioè prima non mancava un giorno in cui non andassimo in ufficio, eppure non si è mai lamentato nessuno, adesso invece il mondo è cambiato, e soprattutto in fase di selezione, le persone hanno delle pretese, che a volte purtroppo non si possono neanche concretizzare, quindi è un mondo particolare, ricollegandomi un po' al titolo della room, quando puoi o quando devi, quando posso faccio le cose molto più volentieri, quando devo ammetto che ho delle resistenze, non so se anche per voi è così, c'è l'obbligo di dover andare in ufficio, ci vado perché ovviamente sono un dipendente, lo scrissi anche in un altro post, se sei dipendente dipendi da qualcuno, se sei freelance, come dicevate benissimo prima, sei in grado di gestirti il tuo tempo, e decidere quando andare, dove andare, e con chi andare, ma quando puoi fare una cosa, la fai sempre volentieri, almeno questo è il mio punto di vista, per quello che percepisco io, quando devo, che è un obbligo, mi passa la voglia, e le faccio controvoglia le cose, quindi chiedo anche a voi, rispetto a questo, come la vedete? Ma sarebbe interessante sentire anche l'opinione di Paolo, cosa ne dite, visto che l'ha stato citato da Andrea, io credo che sia sempre un tema di organizzazione, cioè qual è l'organizzazione in cui stiamo bene, l'organizzazione in cui tu sei stimolato a fare le cose, dove tu hai una crescita nel farle, o in cui sei parte di un ingranaggio, stile un po' Charlie Chaplin, è chiaro che lavorare bisogna, ma se si può lavorare meglio, qual è la condizione migliore? La condizione migliore, a mio avviso, è quella in cui tu sei stimolato, quando si parlava di crescita orizzontale, di crescita verticale, io peraltro ho cenato in settimana, con degli amici che dicevano, sai dopo tanti anni di questo mestiere, mi piacerebbe farne un altro, però per fare un altro come faccio? Sono chiuso in questo ruolo, ho esperienze in questo ruolo e così via, quindi alle volte anche una crescita orizzontale, è quella che ti dà quella scintilla, per essere stimolato, per fare le cose in maniera diversa, è sempre un amore organizzativo, cioè in ufficio non ci vieni, se c'è un clima tossico, e quindi pensi di stare meglio a casa, ma a casa puoi trovarti altre condizioni che ti fanno stare male, io penso che se in ufficio, in aziende in generale, hai un clima non tossico, e questo clima non tossico lo fanno, lo facciamo insieme, lo fanno i responsabili, lo fanno i dirigenti, lo fanno i sessi lavoratori, credo che sia di ispirazione e molto produttivo venire anche in ufficio, secondo me il tema del posto del devo è a prescindere dall'ufficio o del casa, il fatto che tu sia stimolato, perché qualcuno ti riconosce che sta facendo le cose fatte bene, quindi ti invita a farle meglio, oppure semplicemente tu ti senti a parte di un ingranaggio in questo senso stritolato, e quindi le fai perché devi, perché devi portare a casa uno stipendio, perché diversamente non ti fanno stare bene, e quindi devi fare queste cose, questo che credo però possa venire sia a casa che al lavoro. Ma intervengo, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, sono perfettamente d'accordo con quello che è stato detto finora, sono una persona che mi reputo di equilibrio, quindi l'integralismo da una parte o dall'altra secondo me non giova, però mi sento di condividere con voi un punto di vista, non so la vostra di percezione, perché poi rappresentiamo bene o male uno spaccato italiano differente uno dagli altri, quindi lavoriamo in parti un po' tutti differenti. Due punti giusto da condividere, il mio ufficio ha 400 chilometri da casa, io sono ben felice di andarci, l'unica cosa è che ha 400 chilometri da casa, e quindi insomma un po' le difficoltà familiari si fanno sentire, però quello che mi dispiace è che è proprio a 400 chilometri da casa, perché ho sempre sognato di avere un ufficio con delle colleghe, con dei colleghi il più vicino possibile, l'ho trovata a Roma, ahimè, però mi unisco al pensiero di Andrea, che io sono una di quelle persone che è molto felice quando va in ufficio a lavorare, proprio per il clima che si respira. e l'altro invece che è il punto di riflessione che vi invito un attimino a vedere, a far sapere insomma cosa ne pensiate, non credete che comunque la tossicità, anche di cui parlavi anche te Francesco, non sia respirabile nella società, sapete bene che io sono molto attento a quello che succede bene o male nella vita, e quello che mi rendo conto è che abbiamo, almeno per quello che vedo, una parte privata che va ai mille all'ora in molti casi e alcuni servizi invece pubblici, e mi riferisco per esempio alla scuola, io non è che voglio sempre battere lì, però ahimè è talmente visibile che invece sono fermi al palo a un'idea di 50 anni fa e questo comunque inevitabilmente poi incide su quello del lavoro e esempio, guarda, giusto per fare un esempio banale, lunedì e martedì il mio figlio non va all'asilo per chiusura, essendoci le elezioni, siamo uno dei comuni sotto elezione, e quindi lunedì e martedì si chiude, la risposta è stata perché va sanificato, sì, giusto, il problema è che non è seggio elettorale, quindi non capisco proprio questa chiusura, giusto per fare un esempio piuttosto sciocco di quello che succede comunque nella quotidianità e di come poi va a incidere anche in quelle che sono le realtà professionali a cui poi ognuno deve rendere conto o comunque ognuno deve organizzare o gestire. Questo cosa voglio dire, che sicuramente la flessibilità fa comodo, sicuramente lo smart working fa comodo, però con il giusto equilibrio, permetterebbe per esempio di poter andare a gestire tutte quelle che sono le tossicità di una società, almeno oggi troppo individualista e poco propensa alla collettività. Sono molto interessato a sapere cosa ne pensate al merito. Grazie Marco per l'intervento perché nel frattempo è salita anche con noi a chiacchierare Ilaria, che è una full remote worker, e quindi mentre ascoltavo questa cosa del io sono molto felice di tornare in ufficio, comunque l'abbiamo vissuta in questa maniera, Ilaria, tu resti lì, giusto? Cosa fai? Cambia anche tu? Vai a cercare anche tu un ufficio? Ce ne abbiamo un po' di uffici, se hai voglia, noi lo studiamo tutti a giro io credo. Ma volentieri, da remoto volentieri. Ma guarda, io allora, condivido tutti i punti di vista che sono stati esposti, perché in ogni discorso c'è del vero, è vero che una persona è felice di andare a lavorare in presenza se effettivamente l'azienda, i colleghi, c'è un ambiente tranquillo, rilassato, collaborativo, quant'altro. E quindi è bello andare. Ma per le semplici cose, come abbiamo già discusso, il caffè, la condivisione di un lavoro, il risolvere tutto, semmai una sciocchezza subito, è stato un problema. Per altri aspetti è bello lavorare da remoto, no? Io attualmente, l'ho anche detto, ogni tanto scendo in ufficio e mi piace il fatto di prendere la macchina e andare, ma è veramente forse una volta a settimana, adesso che le scuole sono chiuse, neanche quello. E quindi prendere la macchina, prendersi il caffè al bar, puoi salire, in ufficio, parlare con gli altri collaboratori, altre persone, è bellissimo. Ma tutto se c'è sempre un ambiente sano, altrimenti la persona non è felice né di andare in presenza, né di lavorare da remoto, perché poi ci sono delle difficoltà. Io personalmente ho trovato il mio equilibrio. Sogno, sarebbe bello poter mettere per il futuro di tutti la libertà di scelta in funzione di come la persona ha la massima espressione lavorativa, no? Quindi scegliere di lavorare un po' un po' o solo in presenza o solo a... Ma è una cosa utopica che sto dicendo, è impossibile, perché le aziende, gli ambienti di lavoro devono fare grandi passi in avanti a livello mentale, ecco. Lì... Lì non... È un sogno, via, non so come dirvi. Io personalmente sto bene così. Mi sa che avete sentito... Ah, pronto? Sì, sì. Abbiamo perso le frutte a po'. Ho aperto il microfono Stefano. Ciao Ste, come va il viaggio? Mi sentite? Purtroppo, non so voi, ma io quando sono in viaggio c'è sempre almeno un incidente per strada e questo ce lo dice tanto noi guidiamo per le strade. Vabbè, detto questo, per stare in focus con il titolo della puntata io penso che il dovere sia uno dei più grandi catalizzatori della ribellione, perché cosa succede? Quando c'è un dovere, se la persona è allineata a quel dovere va da sé che lo segue. La sicurezza sul lavoro lo vediamo tutti i giorni, vorrebbe essere in tutti gli altri settori. Mentre il potere dà sfogo, al libero o al bisli, perché te hai una possibilità e in base alle scelte che fai decidi, come nel caso di Ilaria, se stare a casa o meno. Quindi, da un lato mi viene da pensare bene, se te imponi un dovere che è seguito come dire, con serenità da chi è allineato a quel dovere mentre metti in contrasto ad un disagio le persone che non sono allineate, forse la possibilità è dare spazio più al potere. Perché? Perché le persone che erano allineate a quel dovere anche spontaneamente continueranno a rispettarlo. Vai a eliminare gli attriti con le altre persone. Ora, il punto è ma se quella persona con il suo libero arbitrio non fa quello che vuoi, bene, come combiniamo? Ecco che lì il lavoro che deve fare un'azienda è attraverso l'educazione, il coaching, la cultura, chiamiamolo come ci pare, guidare le persone a fare delle scelte che siano a pro loro e a pro dell'azienda. Quindi, io voto il potere ma un potere condizionato perché storicamente sappiamo che quanto più coercizione c'è nel mondo e quanto più si genera ribellione e la ribellione non sempre ha portato delle cose sagge. Sai Stefano, alla fine io sono da 30 anni che sono una persona del dovere e quindi un po' il tuo dispunto mi permette di legarmi anche a un ragionamento e quando le cose si devono fare ma perché si si ha questo coinvolgimento e si sa che si devono fare per un bene collettivo perché da quello che faccio io dipendono determinate cose e si ha questa consapevolezza probabilmente è un un dovere più più facile e chi può è sicuramente come l'esempio che ci ha portato Antonella che secondo me è meravigliosa una persona creativa che si fa 30 chilometri forse perché ha anche bisogno di condividere la sua creatività o perché magari in questo periodo non è creativo e quindi stare in mezzo alle persone che è la cosa più bella del mondo e penso che questo sia quello il più grosso insegnamento che ci lascia nei due anni di pandemia forse ne ha bisogno proprio per per ricominciare a sognare immaginare e sentirsi ispirato però ecco essere una persona del dovere è bello grazie Marco è bella questa riflessione perché sapete che a me Francesco piace arrivare un po' spesso al concreto quindi che cosa ci ha insegnato e a proporre qualcosa scusa Francesco no dicevo e a proporre sempre qualcosa che ci faccia stare bene che è un po' il nostro obiettivo di questa room creare un po' di benessere un po' di chiarezza un po' di cultura sì e la domanda che mi veniva in mente è che cosa ci ha insegnato questa esperienza come la possiamo mettere a disposizione e a servizio di tutti perché anche qua perdonatemi se torno lì ma noi ci occupiamo di salute e sicurezza di benessere delle persone di sostenibilità cioè ci occupiamo a 360 gradi dei lavoratori in azienda non solo di chi è smart working allo stesso tempo credo che lo smart working sia assolutamente un'esperienza che può insegnarci qualcosa anche per gli altri allora se ci rifacciamo a quello che ha detto anche Stefano quando è che funziona veramente quando le persone sono responsabilizzate questo quando devo o quando posso vuol dire imparare ad organizzarmi che ci sono momenti in cui lo devo fare e lo affronto in una maniera e momenti in cui lo posso fare probabilmente lo affronto in un'altra perché poi noi tutta questa esperienza la possiamo mettere a frutto di chi ha il lavoro che non c'entra nulla con lo smart working ma deve fare determinate cose deve assumersi la responsabilità di determinate scelte lavorative organizzative deve guidare persone no? che dici Francesco? cioè trasferire che cosa trasferiamo di questa esperienza noi che l'abbiamo vissuta nel mondo salute e sicurezza quella famosa valutazione dei rischi a che ci serve? ma io faccio fatica a risponderti a questa cosa mi sento più incline a risponderti a un'altra cosa io ti ripeto cosa ci spinge noi a fare questa room? beh io posso dire che Sara oggi è uscita ma Sara Cangini la settimana scorsa diceva grazie è una bella room è un bel momento di confronto è un momento in cui stiamo bene allora questo ti incentiva a farlo a farlo meglio questo non è bello se accade sempre al lavoro perché il tema è è vero che Marco fa un lavoro votato al dovere però lo fa perché vuole farlo in un certo modo cos'è che spinge Stefano a indossare quella maglietta? il fatto che deve farlo o perché è stimolato da delle persone che lo rinforzano e gli chiedono di fare meglio e lui facendo queste cose si sente meglio e fa stare bene gli altri cos'è che spinge Andrea ad andare in un ufficio che alla fine in un ufficio sono quattro muli una schimania un lampadario ma sono gli stimoli che ricevi nel fare quella cosa che trasformano in qualcosa fatta di malincuore di malavoglia in un qualcosa in che invece vuoi fare il meglio in cui sai che nel farlo hai grandi soddisfazioni se non è questo il punto cioè di quel momento lì dovremmo imparare che alcune cose sono state male e magari quelle non facciamole più e alcune cose sono state bene ci hanno stimolato e ci hanno portato in effetti oggi a parlare qui assieme in B6 anche quello è un percorso esattamente esattamente questo allora forse quello che ci possiamo portare a casa è che quando siamo stimolati quando riusciamo a fare cose che ci piacciono che sono fatte bene riusciamo a essere anche più presenti più responsabili più ingaggiati a seguire di più comportamenti corretti quindi forse un po' quello che ci possiamo portare a casa nella nostra famiglia professionale è che forse è compito anche parte nostro rendere le cose le cose di tutti i generi non solo dal formazione ma anche la procedura stessa io ho visto procedure a volte impossibili da eseguire e mi sono chiesta ma come possiamo chiedere alle persone di fare queste cose se già la procedura con cui gli abbiamo scritto come farla è inseguibile io volevo fare con voi questo tipo di riflessione cosa ci portiamo a casa che poi possiamo spendere anche su tutto il mondo lavorativo non solo sul nostro che ha vissuto e vive lo smartworking non so sentirei anche Giada che l'altra volta parlava di full remote io credo che ci portiamo a casa i bisogni delle relazioni siamo esseri sociali senza relazioni senza feedback senza una stretta di mano un occhio un caffè facciamo male e performare non performiamo e questo non c'è né a casa quando sei da solo in assenza di stimoli ciao ragazzi oppure quando sei al lavoro in un ambiente tossico Giada cosa ci racconti? allora mi sentite? forte e chiara fantastico Veronica allora innanzitutto ciao a tutti io parlo da ex full remote worker e da attuale hybrid worker ho intrapreso da poco un nuovo percorso in un'azienda appunto giovanissima e che come cultura ha appunto la formula hybrid e posso fare delle considerazioni sin da subito ovvero il fatto di poter scegliere ma anche il fatto di poter andare in ufficio a spot secondo me è fondamentale questo perché impatta tantissimo sia sui risultati che sulla salute mentale fisiologica sia aziendale che personale e anche perché fa parte della cultura lavorare da remoto ha sicuramente tanti vantaggi l'unico problema è che attendere qualora la persona non sia in grado di autogestirsi e attenzione non è tanto una questione di seniority ma di persona si rischia di alienarsi ci si aliena non si ha più neanche la voglia di tornare in situazioni sociali perché diciamo che la socialità è un po' come uno strumento va allenata e nel momento in cui si perde l'attitudine ad avere contatti ad essere anche in un ufficio quindi in un contesto sociale ben definito si rischia di perdere questa attitudine e di non riuscire più ad integrarsi la cultura ha un ruolo fondamentale perché perché non è una questione di noi vogliamo che tu venga in ufficio perché vogliamo vederti a una scrivania lavorare 10, 20, 30 ore al giorno assolutamente no il ritorno in ufficio serve affinché le persone si sentano parte di un gruppo io quando lavoravo in remoto non avendo neanche un team ma lavorando prettamente da sola e con gli sviluppatori ho accusato molto questa cosa perché perché non riuscivo più a immaginarmi in un contesto aziendale avevo perso proprio tutte le mie doti diciamo di socialità e mi sentivo molto sola anche dato dal fatto che appunto come dicevo prima bisogna sviluppare questa attitudine a sapersi gestire che vuol dire responsabilizzarsi essere degli ottimi time manager per se stessi per i colleghi per l'azienda tutta una serie di cose che fa sì che poi la cultura si solidifichi e si sedimenti e venga riconosciuta da tutti creare una cultura da remoto è molto complesso molto complesso perché non hai il face to face con le persone puoi chiedergli come stanno ma non puoi effettivamente comprendere da tutti quei segnali non verbali se la persona ti stia dicendo la verità o no inoltre per concludere un po' il discorso e non rubarmi troppo tempo io sono molto felice di essere tornata in ufficio perché ho riscoperto quel gusto della pausa caffè di poter parlare di un problema con una persona e affrontarlo immediatamente anche il fatto di poter uscire di casa respirare dell'aria vedere qualcosa di nuovo ogni giorno ma soprattutto di avere una routine diversificata che faccia sì che i miei comportamenti magari un po' più da procrastinatrice non vengano fuori nuovamente quindi secondo me la verità sta sempre nel mezzo e soprattutto in base a quelle che sono le esigenze della persona quindi va bene il fatto di poter scegliere decidere un po' meno il fatto di imporre perché poi la cultura viene percepita Andrea buongiorno anche un obbligo addirittura allora grazie per il direttore ingegnere come sta? no già da tranquilla è partita una telefonata Marco microfono acceso ok scusate perché sono anche in macchina e cerco di di non disturbarvi quei rumori di background e niente per concludere dicevo secondo me il fatto di obbligare una persona a tornare in ufficio non va bene questo perché poi la cultura che viene percepita dal dipendente è loro mi obbligano a tornare perché vogliono controllarmi quindi tutto parte da una comunicazione sana che parte appunto dall'azienda e che spiega il perché si chiede la presenza ma soprattutto anziché l'obbligo è bello invogliare quindi io vorrei che tu venissi in ufficio perché abbiamo tante iniziative che vorremmo fare perché ci sono delle questioni importanti che vorremmo discutere face to face cercare sempre la via del dialogo costruttivo e che incentivi la persona anziché demoralizzarla e metterla in uno stato di pressione e di controllo negativo pressione e stato di controllo negativo io mi sto sempre immaginando un po' tutti noi che lavoriamo quante volte siamo sotto pressione quanto volte ci dobbiamo sentire controllati anche qui questo è un grande tema poter aver sviluppato Giada diceva abbiamo imparato per forza devi imparare a gestirti il tempo all'organizzazione la comunicazione sono tutte skill poi sono tutte competenze che non usi solo ed esclusivamente perché sei uno smart working Giada non è che poi quando hai imparato a organizzarti siccome l'hai fatto a distanza non lo fai più in ufficio se hai imparato se hai assottigliato le tue doti comunicative per percepire meglio certi determinati segnali perché sei a distanza perché stai usando uno strumento che ti fa da filtro non è che poi quando sei tornato al lavoro smetti improvvisamente di probabilmente quello che ci portiamo a casa da questi anni è che il lavorare in posti stimolanti in cui siamo invitati ad esserci e a partecipare e non ci siamo per dovere il fatto di aver affinato determinate competenze che hanno reso migliore il nostro lavoro questo io credo poi lo metteremo nel futuro a fattore comune con Eleonora con Francesco ieri si scherzava dicendo ma quale sarà quindi questa prospettiva del 2023 di questo lavoro che non si capisce se faremo a distanza in presenza chi potrà chi non potrà forse quello che dobbiamo raccontarci è che guardando al futuro dobbiamo tenere preziose queste cose che abbiamo imparato perché faranno di noi migliori leader sul luogo di lavoro faranno di noi migliori colleghi persone che hanno una migliore capacità di mettere al sicuro le altre persone il tema della sicurezza a 360 gradi ovviamente al sicuro psicologicamente al sicuro fisicamente al sicuro moralmente che ne pensate cos'altro ci possiamo portare a casa e poi direi che andiamo verso la chiusura non so se mi sentite Veronica ci sentiamo ci sentiamo Ele scusatemi ma sono in auto anch'io accanto a Giada proprio quindi quello che volevo dire io è sicuramente queste room hanno in questo percorso aiutato tanti di noi a comprendere certe dinamiche però ovviamente io faccio anche un po' l'avvocato del diavolo mi metto anche dal lato nonostante il mio posto che ho appena condiviso nella chat mi metto anche un po' dal lato dell'imprenditore sentendo Giada che diceva bisogna lasciare liberi di scegliere io lo dico sempre lasciamo liberi di scegliere mettiamo una minima di presenza in azienda almeno le persone riescano a frequentare l'ufficio però una domanda che mi face era un po' la domanda del mio post cosa sarà del 2023 barra 2022 e anni che verranno perché effettivamente noi adesso parliamo di scelta però è fondamentale secondo me porre l'accento sulla dipendenza e la consulenza cioè il dipendente non è che può tanto scegliere perché se il datore di lavoro sceglie di lasciarti a casa perché ci sono certe regole purtroppo quello che allora dobbiamo fare oggi è educare le aziende educare i manager o comunque chi ha il potere decisionale di fare ha una nuova normalità educarli a una nuova normalità perché guardate l'on mass la mia è stata una provocazione tutto bellissimo l'azienda della vita oggi li è girato da domani tutti in ufficio o se non vi sta bene ve ne andate eh sì grazie è una riflessione importante questa anche in chat Stefania proprio diceva i manager non sono pronti ma non solo i manager anche i contratti di lavoro ancora non sono pronti bisognerà ci sarà la necessità si sta discutendo di un nuovo design proprio lavorativo no e c'era anche qualcuno che aggiungeva che bisogna mutuare nel mondo del lavoro quello che oggi succede anche in altri ambiti è lì che manca in questo momento forse un po' di cultura no Eleonora cioè se noi stiamo raccontandoci della libertà poi però tu sei imbrigliato in un contratto di lavoro che di libertà tenda poca ragazzi uso il mio perché quello di Eleonora non funge non so come mai il mio telefono non sta più reagendo è proprio quello il concetto Veronica cioè lì che dobbiamo spingere dobbiamo capire in che direzione vogliamo andare perché giustamente da dipendente io un paio di mesi fa ho avuto una discussione su LinkedIn dove c'erano persone che dicevano lasciate liberi dipendenti ma dipendenza vuol dire dipendere da qualcuno vuol dire che tu lavori per qualcuno che ti paga lo stipendio di conseguenza cioè che scelta possiamo avere per questo motivo i contratti la regolamentazione dei contratti è importante non che voi me lo insegnate tutto quello che è il discorso relativo alla sicurezza che è qualcosa su cui io punto tantissimo cioè ieri il mio post era provocatorio perché smart working remoto home office non si capisce più niente ma soprattutto sicurezza sicurezza dei dati sicurezza delle persone un datore di lavoro che non mette nero su bianco quella che è la politica aziendale interna rischia e poi il dipendente pretende quindi ovviamente da dipendente mi metto anche dal lato di un imprenditore nel dire devo tutelare me stesso cioè la 231 non esiste a caso quindi bisogna stare attenti anche a queste cose i corsi sulla sicurezza non vengono fatti per far perdere tempo alle aziende ma bisogna conoscere quello che è il regolamento poi tutto quello che le consegue sono a favore del lavoro ibrido perché ripeto io perdere un'ora e mezza di tempo la mattina quando in 15 minuti potrei essere in ufficio ma non è mai così mi fa perdere un'ora e mezza di potenziale fatturato e potenziale lavoro da portare avanti e obiettivi non raggiunti o raggiunti con più tempo questo è un po' il concetto quindi sono pro all'hybrid work ma sono anche mi metto anche nei panni ecco dell'imprenditore che oggi si trova spiazzato soprattutto se è un imprenditore di anni fa che del librido del tecnologico ce ne capisce poco e niente sta partendo Francesco una ruba interessantissima Stefano Stefano vai vorrei fare il basse al contrario ma al solito concordo con tutto però vorrei un attimo sverniciare l'aureola che mettiamo sulla testa del lavoratore perché nei discorsi che sento è un presupposto cioè si dà per scontato che la persona che lavora da prescina dove lavori abbia un senso di responsabilità e il manager è quel birichino che è legato all'MS DOS che ancora non ha capito nulla del mondo che sta cambiando ti chiedo ma è veramente così? è sempre veramente dappertutto così perché il controllo è tossico lo sappiamo però se non ci fosse controllo a parte di un manager sul senso di responsabilità delle persone cioè cosa ci sta a fare quel manager se i risultati non li porti in nome dello smart working e del tuo well being cosa deve fare il manager ricordiamoci le aziende vivono su bilanci non è che ci sono subvenzioni dello Stato quindi magari bravo Stefano la porti con il manager ma attenzione perché ci sono anche tante persone che lavorano e hanno Netflix invece il computer acceso scusate per il testo la volevo dire no no ma è giusto Stefano perdonami mi unisco solo 30 secondi e poi taccio io sono figlio di un imprenditore un imprenditore degli anni 60 quella che oggi chiamiamo la piccola media impresa che è stato il motore dell'Italia è quella che ha creato benessere che ha rilanciato la nostra economia ecco io penso che la riflessione che si dovrebbe fare a livello di decisionisti molto più ampio è proprio quello cioè dove siamo arrivati oggi perché se le aziende vengono viste l'imprenditore viene visto come il traffuldino che fa il lavoro in nero che picchi ai lavoratori e non andiamo da nessuna parte se oggi il benessere si crea con i posti di lavoro la dignità le persone la dai con il lavoro e questo noi siamo fermi al palo ma non da oggi da anni e tutto quello che ne consegue per quello che prima ho voluto un attimino condividere un pensiero e sapere cosa ne pensavate voi ripeto io sono molto attento a quello che succede nella società per mio di interesse forse per egoismo perché ho due figli piccoli voglio capire dove va anche questo paese fuori però mi rendo conto che da una certa parte siamo fermi al palo anche nei discorsi ce lo siamo detti sono vent'anni che la sicurezza scusate se mi prende un po' di passione ma sento i soliti discorsi bisogna azzerare le morti sul lavoro voi dovete azzerare le morti sul lavoro giusto per fare un esempio scusatemi sciocco ma che cosa poi viene fatto dalla singola persona ecco forse quello che mi sentirei di suggerire se fossi un consul un consigliere all'interno di un'azienda di privata sicuramente a un imprenditore di valutare tutto e riuscire a colmare quelli che sono dei bacchi che l'attuale società dà ce li ha gli strumenti da parte dello Stato? no bisogna essere veramente ancora più bravi questa è la realtà oggi perché di aiuti io ne vedo pochi e sento soltanto dei grandi scorsi però sono d'accordo con quello che dici te quindi consapevolezza coinvolgimento però anche una questione di sensibilità della leadership e di aver chiaro dove vuole andare purtroppo di aiuti ahimè gli imprenditori ce ne hanno pochi ma allora cominciamo anche qui a girare un po' la prospettiva proviamo da questo punto di vista perché come sempre in queste cose non c'è un torto o ragione ci sono punti di vista diversi prospettivi diverse ma cominciamo a chiamare i nostri colleghi collaboratori l'imprenditore cominci a considerare che collabora con delle persone ognuna con età esperienze diverse con maturità diverse tutti collaboriamo per il successo dell'azienda se invece c'è una struttura di gerarchia dove di fatto ognuno di noi viene visto come un meccanismo è chiaro che ciascuno di noi a questo punto in assenza di motivazione e di visione complessiva fa quello che deve non quello che può fare al meglio no ciascuno di noi credo che debba si senta bene se sente che fa parte di un progetto di una visione in cui ciascuno di noi o appunto per età o competenze esperienze collabora il successo dell'impresa allora se questo è il punto di vista ci sta tutto il manager che è anche un po' mentore e qui vedo che è uscito anche Giuseppe la regina che ha questo bellissimo chat di giovani senza capo giovani senza capo o senza mentori allora cominciamo anche qui a ragionare insieme se tutti quanti noi sapessimo di far parte di una visione complessiva e sapessimo che il nostro contributo ci aiuta a raggiungere il successo dell'impresa di cui ognuno di noi prenderà dei meriti allora le cose stanno diverse l'ambiente diventa tossico quando uno si prende i meriti del lavoro degli altri ad esempio e quindi quando invece c'è una chiara relazione di una chiara relazione dove il capo non è capo ma mentore dove l'imprenditore sa che per fare impresa ha bisogno di competenze che lui non ha e qui mi rallaccio a quello che diciamo un'altra volta il capo deve sapere proprio tutto e allora in questo caso se uno di noi sa di essere parte di un meccanismo magari ecco quel lavoro là lo fa un po' più volentieri quindi cominciamo a ragionare su questo noi siamo lavoratori o collaboratori condivido in toto e soprattutto sono anche estremamente convinta del fatto che le parole abbiano un peso e soprattutto impattino sia positivamente che negativamente su un'organizzazione il fatto di dare il titolo di collaboratore a quello che oggi è definito dipendente lo responsabilizza ulteriormente perché si sente parte del traguardo aziendale si sente parte dei risultati e soprattutto si sente in una certa misura anche responsabile del buon esito della buona riuscita di tutti i progetti in essere quindi dovremmo iniziare ad utilizzare i termini corretti in un mondo dove ormai gli inglesismi stanno prendendo il sopravvento e questa è la lancio provocatoria per compone il mio stile LinkedIn dà a tutti la possibilità di essere supereroi in un mondo di persone normali il problema è che talvolta utilizziamo titoli altisonanti ma non siamo veramente in grado di comprendere la dietrologia di quel termine non siamo in grado di comprendere che il significato i macro significati che racchiude quella job title quindi quando dico che bisogna anche educare i manager è perché mi è capitato di vedere tanti manager che di manager avevano solo il titolo si appropriavano dei meriti del team come appunto dicevamo poco fa quindi l'hai fatto tu però sono stato io perché sono il manager però poi quando ci sono i casini da risolvere ah no è colpa tua e non del manager insomma bisogna fare anche sotto questo punto di vista un po' di chiarezza ed essere in grado di usare i termini giusti e di ingaggiare le persone affinché il lavoro possa nobilitarli dargli dignità e dargli quel boost di di autostima di confidenza di voglia di passione che veramente porta un'azienda verso il successo mi viene da da dire per andare verso la chiusura ormai manca poco quindi userei questo poi anche per salutarvi e darvi l'appuntamento Clubhouse venerdì prossimo 8.30 tutto il mese di giugno cercheremo di farne anche una serale quindi aspettate novità mi viene da dire anche i manager sono lavoratori sono lavoratori o collaboratori collaborano o eseguono e quindi quando gli fa comodo va bene e quando gli fa comodo scantonano forse a Francesco potrebbe essere già questa il titolo della nostra prossima room lavoratori o collaboratori ci sono degli ingredienti per fare entrare nel vivo della della collaborazione le persone perché questo è un tema molto più largo non riguarda i manager non riguarda solo lo smart working riguarda tutti i lavoratori riguarda gli operai riguarda le persone al supermercato che collaborano al bene della collettività e della loro azienda insomma che ne dite collaboratori e lavoratori settimana prossima 8.30 su Clubhouse vi lanciamo il quesito e io in questo momento vi saluto anche ne approfitto per ringraziare tutti è sempre molto prezioso essere qua insieme vi ringrazio visto che qualcuno al room diceva che belle queste room sarebbe bello estenderle potete farci pubblicità potete raccontarlo potete condividere su LinkedIn e sulla pagina di Rock'n'Safe il link per riascoltare anche queste puntate e con questo io vi saluto e vi auguro una buonissima settimana alla prossima lavoratori o collaboratori qual è l'ingrediente segreto? grazie a tutti grazie a tutti